Buonasera a tutti i nostri telespettatori, siamo pronti, anzi prontissimi per l'evento più esclusivo e glamour e atteso dell'anno. La seconda edizione di Passerella da Sogno, ideato ed organizzato dalla poliedrica Daniela Valenzi. Presenta la serata Anthony Pett, questa sera ci sarà il presidente di giuria, lo stilista di fama internazionale del momento, Anton Giulio Grande. Stilisti e modelli sono pronti per sfilare nel red carpet, ci sarà anche una giuria prestigiosissima, quindi iniziamo subito e buona visione a tutti. Grazie 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 a tutti. direttore di produzione Felice Abbatelli, il modello d'eccezione che ha calcato la passerella di apertura per tutti i giovani designer in gara, Riccardo Apicerni, la nostra meravigliosa giuria partendo da Giuliano Miniai, il presidente di giuria Antonio Giulio Grande, Yolanda Pomposelli, Daniela Cressa e non per ultima la nostra Paola Cipriani e poi ancora per essere venuti a trovarci direttamente dalla regione Lazio il dottor Adriano Palozzi, Sara Platterotti, quindi si chiude questa prima tappa di passerella da sogno, io vi saluto e vi ricordo Italia di moda, Italia più bella, ciao! Grazie a tutti! Siamo Anthony Pet per aver condotto perfettamente la serata e poi ancora l'ufficio stampa e comunicazione Federica Rinaudo, il fotografo ufficiale Flavio Di Properzio, per le riprese audio e video Fabrizio Fontana e poi uno speciale ringraziamento alla stilista Paola Cipriani che mi ha dato l'opportunità di essere questa sera testimonia di questo meraviglioso abito, questa meravigliosa creazione. Per vedere tutti i suoi abiti e creazioni dovete cliccare su Paola Cipriani Couture. Io per ultimo vorrei ringraziare l'organizzatrice, l'ideatrice dell'evento e Daniela Valenzi perché senza di lei, senza i suoi sacrifici e i suoi impegni passerella da sogno non avrebbe avuto vita. Quindi grazie a Daniela Valenzi e seguiteci sul nostro canale Gossip News e Web TV. Ciao, al prossimo servizio!